Tre decessi per Covid in Molise, torna a salire il numero dei positivi, 68, ma sono di più anche i tamponi processati, 787, 32 i guariti, un nuovo ricovero in malattie infettive ma anche un dimesso dal reparto e un trasferimento dagli infettivi in rianimazione. È il quadro che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM. Le tre persone decedute sono un uomo di 79 anni di Campobasso che era in malattie infettive, un 71enne di Sant'Elia Pianisi e una donna di 74 anni di Campobasso che erano invece entrambi ricoverati in terapia intensiva. I morti per coronavirus salgono così a 205 in Molise. Al Cardarelli attualmente sono in cura per Covid 63 pazienti, di cui 8 in rianimazione e 55 in malattie infettive. I 68 nuovi contagiati sono di 29 comuni. Il numero più alto riguarda Termoli, con 12 casi, seguono Campobasso, Isernia Campomarino con 5, 4 i positivi di Boiano, Sant'Elia e Trivento, mentre in tutti gli altri comuni 2 e soprattutto un caso. Gli attualmente positivi in Molise sono 1.558. Dei 32 nuovi guariti, il numero più alto riguarda Termoli con 9, 4 a Campobasso. Coloro che hanno sconfitto il Covid dall'inizio della pandemia nella nostra regione sono 5.101. Il tasso di positività è dell'8,64%, a livello nazionale è dell'11,4. Si sono intanto riuniti in videoconferenza i ministri Speranza e Boccia, il commissario Arcuri e le regioni per definire le prossime tappe per rendere più veloce la campagna vaccinale. Messa a disposizione del personale reclutato con il bando nazionale, autorizzazioni di altri vaccini che consentirebbero di estendere in tempi brevi la loro somministrazione alle altre fasce della popolazione a partire dagli ultraottantenni, richiesta di un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per un loro coinvolgimento nella vaccinazione anti-Covid. Questi in sintesi gli esiti della riunione. Abbiamo registrato con piacere, ha detto Toma, l'apprezzamento dei ministri e del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per quanto fatto fin qui dalle regioni sui rispettivi territori e dal personale sanitario impegnato nella prima fase di vaccinazioni.